Ciao Felice. Come mai c'è la divisa? Per chi fravenza sono i sei vizi. E la mamma come sta? In pena, come sempre. In pena, per me o per te? Per tutte e due. Anzi, tieni, queste te le manda lei, sono dolci. Superiore, che andiamo contro le regole, eh? E già, a te non ti controllano, eh? Si vede che di me si fidano. Si vede che loro sanno che tu non facessi mai scappare a uno come a mia, pure che ha sogno tuo frate. Senti, pezzi miei da, un cavallo tenia a avere carenza di ci sei spinto da solo. Ma cosa ti fai fare? Si vede che io era destino. Un frate santo è l'altro demonio. Ecco che si mi diceva che sia un culo. Pezzi miei, non fanno. Non hai rispetto per nudo. E neanche merito il mio di desprezzo. Ma per chi si sbirra tu mi vuoi insegnare a mia come si vede, eh? Tu mi devi portare rispetto. Io l'hai mantenuto a tutti voi avuti. Grazie a mia ora potete vivere con degnità. E io ti faccio studiare. Ma a stare attento, Saro. A stare attento. Perché la pistola che tieni, senza tuo frate, poteva sparare dalla parte sbagliata. Tu capiste? E caca ti sbagli. Perché i tuoi piccoli non hanno seguito mai a niente. Su tutta la casa sei batte. Anzi appena esci qua, ti impicci con la faccia. Se la mamma è scopata come una si, e ora sono io che mi occupo di idda. E devo avuti. Tu capisci? Ah, Saro, puoi fare un favore? Tu che dentro hai ben il ricchio. Superiore, il colloquio è finito.